Alzare da questa casa, da questa casa di Maria, casa di preghiera e di carità, di fede e di amore, come ha ricordato Monsignor Tommaso, la supplica alla Madonna del Rosario, che il Beato Bartololongo vuole dedicare alla pace. E come avviene, ci si sincronizza, la supplica è qui e in tanti luoghi, in tante parrocchie, in tante comunità, ci si mette nello stesso orario, con la stessa preoccupazione, ripetendo le stesse parole. Supplichiamo, con l'insistenza della povera vedova che cerca giustizia, da quel terribile giudice iniquo, spietato, che rende spietati, che è la guerra. La supplica esprime l'attesa di tutta la creazione che soffre e grida alla pace. Quando uno dice, ti supplico, è proprio una richiesta di cui non possiamo fare a meno.